Sono 209.474 persone gli stranieri residenti sul territorio della città metropolitana di Torino, pari al 9,52% della popolazione. È il dato presentato nel rapporto 2022 dell'Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in provincia di Torino. Il rapporto, giunto alla sua venticinquesima edizione, è il frutto di una collaborazione fra più enti, coordinata dalla Prefettura di Torino. L'obiettivo è quello di fornire ogni anno un quadro del livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale, ma con riferimento anche al tema dei minori non accompagnati. In generale, il dato che emerge è che il fenomeno migratorio ha concluso la sua espansione e si sta stabilizzando. Ovviamente Torino fa la parte del leone, con circa 134.000 stranieri residenti su una popolazione di 858.000 persone, mentre sul territorio metropolitano i numeri sono inferiori e in calo. La fotografia che questo report annuale dell'Osservatorio sulle presenze di cittadini e cittadine straniere sul territorio metropolitano fa ci riporta ad una condizione per la quale i piccoli comuni montani o delle zone interne a volte non hanno nessuna presenza straniera o addirittura presenza di una sola unità. Comuni piccolini tipo Frassinetto, Balme, Ingria, Prali, Moncenisio hanno zero stranieri o pochissime unità di cittadini e cittadine straniere. Questo ci dice che concentrare nei grandi centri, nelle grandi città e non avere invece la possibilità di accogliere, di integrare su tutto il territorio metropolitano coinvolgendo anche e soprattutto piccoli borghi che rischiano di spopolarsi non è la strada giusta. La città metropolitana con questa sua analisi vuole provare a riproporre politiche territoriali di inclusione, di reale integrazione nelle comunità, fino anche nelle comunità più piccole, delle aree interne e delle aree montane.